Buongiorno, oggi siamo con Laura Puppato, che voi forse ricorderete perché era stata presente quando c'è stata al primario del PD anni fa, era stata una delle quattro persone, l'unica donna che era stata presente. Adesso vive a Montebelluna, si occupa sempre di politica e volevo ricordare anche che era stata una delle prime firmatari di tutti. In questo momento le chiediamo cosa sta facendo perché ha molte attività interessanti. Di cosa ti stai occupando adesso Laura? Allora, sono priva di qualsiasi ruolo dal punto di vista politico, come ti stavo dicendo, in realtà alle europee che era diciamo il mio obiettivo vero perché ho sempre avuto questa anima profondamente fortissimamente europea e quindi avendo anche lavorato quando ero al Senato tra l'altro al Consiglio d'Europa proprio perché avevo chiesto di essere inserita tra i parlamentari dei parlamenti che si riuniscono appunto a Strasburgo in questo Consiglio d'Europa che è un'altra entità che si conosce molto poco ma ha un notevole valore, ho sperato nel 2019 onestamente di essere eletta alle europee, complice da una parte diciamo il risultato molto scadente che ha avuto il PD e dall'altra però anche il fatto che c'è stato diciamo poi magari se volete ne parliamo perché anche qui l'aspetto femminile maschile ha avuto la sua rilevanza diciamo così non è stata una rilevanza a favore delle donne all'interno del mio partito e qui non entro nel marito degli altri insomma alcuni episodi sono significativi credo che almeno un paio li possiamo elencare comunque dico nonostante abbia ricevuto praticamente più voti di qualunque candidato escluso calenda nelle quattro regioni coinvolte sono rimasta al palo nel senso che sono tra i non eletti quindi anche se sono la seconda dei non eletti ma insomma di fatto con un ottimo risultato di quasi 49 mila voti ma non sono riuscita ad essere eletta quindi semplicemente siccome credo da sempre che la politica non sia solo ruolo ma sia lavoro quotidiano presenza quotidiana lotta quotidiana lotta quotidiana e anche costruzione costruzione delle alternative dal basso perché così sono nata così sono nata politicamente no nel negli anni duemila a partire già dagli anni 90 e in fondo sono tornata alle mie origini no che se vogliamo anche l'aspetto che l'aspetto più concreto e meno soggetto a infinite mediazioni conciliaboli alla politica diciamo parlata e di sottobosco la chiamo così anche se poi quella più visibile parliamoci chiaro no perché quello che uno fa nell'ambito magari più territoriale è sicuramente meno visibile da altri punti di vista e quindi qui che cosa faccio da ieri sera tanto per parlarci chiaro abbiamo fatto una riunione via web perché ormai tutto avviene via web da da un anno a questa parte per salvare un bosco che l'amministrazione comunale locale vorrebbe iniziare a spezzettare come uno spezzatino e che è invece un bosco si chiama un bosco di faggi il fagarè che è un bosco storico planiziale uno dei pochi rimasti di straordinario valore tra l'altro sia ambientale ieri sera appunto una botanica ci parlava della dell'interesse dell'università di udine per esempio alla verifica dell'esistenza di un'orchidea rara in questo bosco quindi la nostra biodiversità questo habitat straordinario che dobbiamo salvare e le battaglie si fanno anche così portando la gente a conoscere un patrimonio l'abbiamo chiamata la nostra cattedrale verde da salvare per dirti e poi ancora ho voluto in termini un po più estesi a livello veneto costruire una scuola di politica che ha avuto un incredibile successo e ce ne siamo stupiti per primi noi no no non abbiamo potuto lavorare a livello nazionale abbiamo potuto però iniziare questa proposta con figure naturalmente di carattere nazionale che sono venute ma anche di carattere locale abbiamo invitato figure diverse in relazione alle tematiche che affrontavamo quindi si teneva la solita lezione magistralis ma soprattutto e questa era la cosa straordinaria si è tenuto un laboratorio un laboratorio in cui gli aspetti trattati diciamo all'interno di questa lezione magistralis nella quale peraltro erano previste anche delle domande finali da parte dei ragazzi dei giovani dai 18 che poi abbiamo anticipato ai 16 perché c'è molta maturità oggi tra i giovani eh tra i 16 e i 35 anni la previsione eh per l'iscrizione diciamo era prevista per queste categorie e e poi si si creavano questi laboratori si sono creati questi laboratori in cui si metteva sostanzialmente al lavoro il giovane che aveva partecipato alle lezioni per riuscire a ehm rappresentare quello che all'interno dei vari temi avrebbe voluto portare avanti se fosse stato un amministratore locale per esempio no oppure che avrebbe voluto affrontare perché ritiene che quello possa essere un tema che va trattato in un certo modo che va declinato in un certo modo rappresentando la sua idea non solo ascoltando e nutriendosi quindi delle informazioni che gli vengono da persone ehm ehm competenti e e certamente con una bella storia ehm e una buona qualità eh quindi è stata interessante perché siamo arrivati al secondo anno con fatica l'anno scorso perché c'è stato il covid ma ce l'abbiamo fatta una settantina le iscrizioni tanta roba veramente tante robe e siamo riusciti l'età delle persone che hanno partecipato sì l'età eh ti dicevo era la bella media credo fosse intorno alle diciannove ventun anni eh abbastanza giovani molto giovani no perché i giovani non sono molto spesso coinvolti nella politica se non perché vogliono eh poter stare contro qualcosa a qualcuno invece in realtà è necessario non dire non poter stare solo ma c'è una ed è questo che che mi ha stupito che ci ha stupito perché siamo stati un gruppo molto bello che ha costruito questa cosa tra l'altro devo dire approfittando di una disponibilità perché poi uno dei problemi quando crei una scuola completamente gratuita oltretutto no quindi non è che metti in campo qualcosa di costruito per fare business anzi fai business al contrario nel senso che ci metti lavoro e magari anche qualche qualche soldo per le spese vive e però abbiamo eh goduto del di uno straordinario eh di una straordinaria location di una disponibilità di un luogo particolarmente ideale che era questa questo auditorium insomma eh messo a disposizione dalle discepoli del Vangelo che è una realtà eh religiosa femminile ehm molto innovativa eh che si rifà tra l'altro a Charles de Foucault quindi eh diciamo al cristianesimo eh vissuto attraverso la lettura del Vangelo e la sua realizzazione concreta che hanno che proprio perché vivono mh intanto sono tutte persone che lavorano quindi chi fa il medico chi fa l'insegnante eh sono un bel gruppo di una ventina di ragazze tieni presente che la più anziana ha novantadue anni e la più giovane ne ha venti quindi un gruppo di ragazze detto in generale che che lavorano molto nell'ambito del volontariato del del sostegno alle difficoltà eh carcerati immigrati eccetera e hanno sposato la nostra idea di una scuola politica perché eh come diceva eh Nazarena la un'ottantenne la più giovane ottantenne che io abbia mai conosciuto va bene eh lei diceva in realtà noi dobbiamo costruire il futuro e quindi se possiamo formare in senso pulito i giovani alla politica intesa come servizio vero e competente alla cittadinanza noi siamo a disposizione e quindi abbiamo avuto due anni bellissimi usando e utilizzando questa realtà e adesso siamo al terzo anno sì di queste persone quante quante donne quante quanti eh partecipanti di sesso femminile che è una cosa che mi interessa molto perché il problema è che appunto le candidature femminili in politica molto spesso sono carenti. Allora eh è stata devo dire equamente ovviamente non c'erano preclusioni di sorta quindi si scriveva chiunque volesse eh senza assolutamente mettere in campo nessuna forma eh né di vincolo né di discriminazione. Abbiamo avuto circa la metà di partecipanti maschi e femmine e devo dire che eh tutti i ragazzi molto in gamba che mi hanno stupito ed è sempre straordinario vedere la loro voglia di conoscere la curiosità ma anche già la loro competenza cioè affrontavano le tematiche non da neofiti no? Eh e anche quando lo erano con degli uno sguardo molto evoluto molto intelligente proprio capace di futuro quello che manca nella politica degli adulti oggi. E la cosa più bella che poi ho ottenuto oltre a questa eh cioè incuriosire insomma mettere in campo tra l'altro abbiamo avuto la soddisfazione di avere già due eh ragazzi inseriti nei contesti comunali perché si sono candidati alle precedenti elezioni e sono stati eletti in consiglio. Eh uno di un comune padovano e uno del comune di Castelfranco Veneto. Sì sì. Ed è stata che abbiamo ehm come dire azionato un ehm una voglia di ehm praticamente di procedere in maniera analoga altrove perché il Veneto è una ragione molto grande come si sa e quindi arrivare diciamo da dalle estreme da da Belluno piuttosto magari a Belluno è abbastanza vicino a noi perché siamo in provincia di Treviso quindi siamo attaccati però già da Venezia piuttosto che eh da Rovigo è chiaro che o da Verona per esempio che è ancora più lontana sul centoventi chilometri diventa improponibile no? Soprattutto se come noi lo facevamo nel fine settimana quindi due giorni praticamente eh dedicati e quindi la cosa bella è stata che si è gemmata questa scuola politica nel senso che ha prodotto altre scuole politiche altre iniziative con queste caratteristiche esattamente una a Venezia e una ehm a Vicenza a mia conoscenza probabilmente ce ne sono anche altre in moto eh quindi è il mio destino diciamo che è quello di aprire di aprire strade. Senti di aprire strade. Non c'entra niente con la scuola di politica però in qualche modo c'entra eh perché ci sono poche donne che si eh candidano nelle politiche o quantomeno donne che rispondano il tetto di cristallo. Sono i i capi bastone del del dei partiti oppure sono donne stesse che in qualche modo sono eh sbalterne eh al mondo della politica e e quindi alla ai politici che sarebbe invece molto importante se non sto parlando di un partito donne sto parlando di presenze femminile io la vedo così eh io penso che ci siano domanda da un milione di punti però la dico così eh uno è sicuramente il fattore storico che incide molto noi eh c'è niente da fare paghiamo una storia politica eh istituzionale molto recente il voto stesso insomma che è stato conquistato nel dopoguerra soltanto nel nostro paese ma soprattutto se andiamo a vederci i numeri e la composizione di governo e di parlamento tanto per parlare delle due istituzioni diciamo più eh importanti più capaci di rimuovere ostacoli e di mettere a frutto politiche di cambiamento dovero dobbiamo dirci che se siamo arrivati al 2006 cioè la bellezza di 61 anni anzi 60 anni giusti dopo il voto per avere un 15 risicato per cento di donne al Parlamento nessuna per esempio nelle competenze economiche finanziarie ehm nessuna al MISE eh cioè il Ministero per lo Sviluppo economico tanto per parlare di Ministeri chiave per aspetti che oggi onestamente sono predominanti perché parliamoci chiaro è chiaro che è importante anche avere il Ministero del Welfare per esempio che peraltro la prima ricordiamolo è stata proprio Tina Anselmi di Castelfranco Veneto quindi la storia femminile è molto presente in questo territorio con l'Alina Merlin eh che era l'unica senatrice voglio ricordarlo nel 1948 eletta unica e lei diceva molto saggiamente ce n'è una sola nel Senato diceva i trecento e quattordici maschi che c'erano accanto a lei ce n'è una tre una sola eh la prima la l'unica senatrice della seconda legislatura che in realtà è stata la prima no perché come noto la prima è stata costituente bene eh l'unica senatrice eletta per i socialisti Lina Merlin e lei diceva c'è una sola donna in questa assise ma ce n'è una di troppo per molti di loro quindi ehm molto significativo di come fosse vissuta come una zavorra questa dimensione femminile perché la dimensione femminile è quella autentica quella vera lasciamo perdere le sciacquette e tutte le come dire le rappresentanze molto eh discutibili e labili che pure abbiamo avuto nel corso di questo tempo e qua richiamo pontigia dice che la diversità dei normali è molto più eh meno accettabile no è più difficile da accettare rispetto alla diversità dei diversi e la diversità dei normali siamo noi perché la normalità è sicuramente come dire appartenente alla società no la quota femminile è esattamente il 50 per cento quindi siamo la normalità della società siamo l'altra parte della luna cioè siamo eh la 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 50 per cento di donne sì 51 52 poi tutto sommato esatto però normalmente cresciamo di più diciamo nelle età più mature perché abbiamo questo livello di sopravvivenza maggiore ecco però eh diciamo che complessivamente siamo esattamente una non siamo una quota siamo la società insieme con l'essere maschile quindi costituiamo siamo costituenti della società no naturali esistiamo viviamo lavoriamo studiamo ci impegniamo siamo competenti però appunto nella diversità della normalità che fa paura no e qui eh esce eh il tema del della della necessità insomma per per il per il potere maschile di non perdere assolutamente il proprio no di non perdere assolutamente la la propria mentalità al servizio del potere e e qui eh arriviamo al secondo punto no cioè eh che cosa è stato chiesto nel corso di questi anni e io l'ho vissuto anche personalmente sulla mia pelle anche se devo dirti non 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 posso come dire che che considerare che comunque la mia avventura politica insomma quello che sono riuscita a fare nel corso di questi due decenni è stata certamente anche favorita da un interesse femminile molto forte però c'è una quota rilevante qui concordo completamente con Anna Finocchiaro con cui ho condiviso la diciassettesima legislatura e che stimo moltissimo che c'è una quantità una parità a volte quantitativa va bene che viene ricercata ma eh ma è delegata non corrisponde all'effettivo vertice tra virgolette o alle effettive necessità di quel mondo femminile quindi è ancora una volta una richiesta che viene rivolta al mondo maschile per poterci essere va bene e invece non è un diritto con diciamo conquistato pienamente alla parità se fosse un diritto conquistato pienamente alla parità avremmo una parità effettiva o comunque molto vicina alla parità rappresentata dalla società nel nelle quote dirigenti e poi c'è il modello politico lasciami dire stancantissimo e noi tendenzialmente come donne io io la vivo così l'ho vissuta così io mi stancavo da morire e mi proprio diventavo depressa quando sono una persona esageratamente talvolta entusiasta no attiva la partecipazione alle segreterie nazionali ai direttivi nazionali per non parlare delle assemblee nazionali un deja vu che potevi già sapere prima di entrare quello che sarebbe stato il filone diciamo che avresti visto all'opera quindi eh il tema di questa politica molto tradizionale che ancora oggi lascia pochissimo spazio diciamo all'inventiva all'innovazione alla capacità di visione di una autentica società diversa da impostare non viene proprio né coltivata ma neanche mai coltivata né neanche recepita anzi come ripeto viene vissuta come un pericolo no come un timore quindi eh bisogna sfondarlo questo muro ma non lo si fa probabilmente fin tanto che la nostra rappresentanza viene ad essere diciamo canalizzata attraverso le associazioni come il caso delle democratiche nel caso del PD eh destinate sostanzialmente ad esistere in funzione di una battaglia ideologica che è quella appunto eh di una parità richiesta eh la la parità non si richiede si propone e si e si combatte io ho fatto così nel duemila e dodici ho fatto così nel duemilanove ho fatto così nel duemiladue cioè non ho chiesto ho portato avanti l'iniziativa ho voluto eh capire se c'era lo spazio di parlare di temi che oggi per esempio sono sulla bocca di tutti no Draghi ha perfino costruito due ministeri su questi miei temi quindi io dovrei essere felicissima perché l'innovazione tecnologica associata alla alla diciamo alla riconversione ecologica del paese insomma lo chiedevo se tu vai a vederti il mio programma del duemiladodici era il fondamento del mio programma del duemiladodici dove chiedevo un super ministero che avesse il controllo anche dei ministeri collegati dall'agricoltura ai trasporti dal turismo alla cultura diciamo alla scuola perché tutto doveva essere funzionale a questi due grandi obiettivi che erano evidentemente gli obiettivi del futuro e del presente del nostro paese ma ci abbiamo messo otto anni per trasformare questo in una importe di governo forse ci voleva intanto una persona che è vissuta in Europa lasciamelo dire cioè oggi io Draghi non lo vedo come l'italiano più famoso nel mondo piuttosto che l'ex governatore della bce io lo vedo come quello che ci manca cioè una persona dotata di un di un vissuto non di un attesa di un vissuto europeo perché si diventa europeo europei io penso perché i giovani lo sono perché vivono in Europa la nostra generazione io sono un caso perché ho come scrivevo nel mio libro una madre trentina e ho sempre avuto amicizia della mite l'Europa inevitabilmente perché c'era diciamo e poi sono vissuta tre mesi in inghilterra tre mesi in austria vienna quindi mi sono nutrita di quella comunanza europea di quel sentire europeo no non mi sono mai sentita estranea in quei mondi anzi ero parte di quel mondo mi pareva di parlare una lingua persino più comoda di quella che posso parlare a Roma piuttosto che a Venezia no perché c'è un ascolto già predestinato già disponibile diciamo no e quindi insomma Draghi io lo vedo come un uomo che oggi rappresenta esattamente quello che dobbiamo fare quello che dobbiamo essere cioè un ragionare in un contesto europeo pensare come europei e che è più facile da dire no che da fare e necessita evidentemente di un vissuto che non c'è ancora o c'è solo in parti delle generazioni attuali per esempio io faccio sempre notare il mio partito democratico come nonostante tutti i suoi stravaganti errori e la sua il suo istinto di conservazione che è maledetto abbia comunque un voto prevalente nei giovanissimi 18 25 anni dove abbiamo sì assolutamente siamo oltre il 30 per cento in quei giovani lì ed è vero perché un giovane al di là di tutto coglie prima di tutto l'essenza dello stare in Europa e di essere mentalmente non più assoggettati come purtroppo abbiamo dovuto essere in tutti questi anni abbiamo anche per necessità dovuto essere in tutti questi anni ancorati per esempio il tema dell'anticorruzione perché il paese era corrotto insomma noi viviamo dentro un tessuto che è veramente antiquato stretto limitato e costretto anche proprio da meccanismi come quelli del del familismo tipicamente italiano se vuoi fare carriera dalla politica all'ultimo posto di ricercatore da 800 euro al mese devi essere introdotto devi essere portato avanti per ragioni che non sono in merito è terribile questa cosa noi i migliori perché li abbiamo mandati in Europa ma perché l'Europa quando li ha letti dai curriculum voglio dire io ne conosco potrei farti nomi e cognomi di persona straordinaria dei ragazzi che si sono fatti una strada enorme altrove in Europa in America in Canada ma insomma in particolare in Europa mandando un curriculum curriculum vitae con le loro competenze e sono stati presi subito via mail cioè o li hanno fatto via Skype piuttosto che via Zoom un'intervista di 20 minuti per capire se le loro competenze in inglese in tedesco in francese in spagnolo piuttosto che la loro qualità tecnica o di altra natura o culturale permetteva di essere in quel posto punto e quindi questa libertà di pensiero questa società evoluta è la necessità di tutti noi e dei giovani in particolare no e noi siamo ancorati invece lì al chiedere ancora per riuscire ad avere un ruolo il posto la possibilità di lavoro sconfiggere la corruzione sconfiggere le mafie sconfiggere sono tutti questi sono tutti ma vedi hai citato una cosa giustissima il tema dell'evasione che stavolta è illusione ma quasi sempre proprio evasione va bene nasce da che cosa da una concezione che noi il nostro paese che quasi genericamente ha che è un modo per salvarsi da uno stato predatorio allora se tu passi dal dal considerare il danno al ai beni comuni e allo stato inteso come istituzione in questo caso stato regione perché poi siamo anche un paese semifederalista insomma dove i soldi dello stato non vanno solo lo stato no arrivano alle regioni ai comuni quindi voglio dire quando parliamo dello stato in realtà parliamo di tutte le istituzioni va bene allora quando tu trattieni per te dei soldi che devono essere spesi per la comunità lo stato siccome giudichi che lo stato comunque non li spende bene ne vuole troppi è esoso è inadeguato nella gestione diciamo dei servizi che mi offre poi quella è anche una grande giustificazione però c'è allora io intanto comincio a trattenermene un pochi per me capito e questa roba è vissuta io ho partecipato e sto partecipando ci vado anche lunedì insomma ad altre trasmissioni televisive la cosa è vissuta ti giuro come una licenza necessaria cioè in qualche modo uno si deve salvare in qualche modo uno deve tutelare se stesso cosa che se tu vai in Germania no per tornare a parlare di Europa e ehm vieni a rompere il mio cancello o subito dopo rompi il cassonetto dei rifiuti che è fuori ti becchi una eh condanna di gran lunga superiore per averlo rotto il cassonetto rispetto al fatto di aver danneggiato il mio cancello perché perché c'è un concetto che nasce anche da una questione storica religiosa evidentemente protestantesimo calvinesimo eccetera che dice che i beni comuni hanno un valore straordinario cioè hanno un valore superiore all'individuo e l'individuo è funzionale alla società non è il contrario quindi eh è tutto certo tanto è vero che noi ridiamo di loro perché a me capita è capitato spesso adesso è un anno che non vado più da nessuna parte ma eh è capitato spesso di davvero purtroppo eh significativo di eh da buon italiano perché poi questo siamo no? Eh arriviamo per esempio ad un eh diciamo ad un eh ad un eh ad un blocco diciamo in un ponte piuttosto che per lavoro in corso o anche all'ingresso di un'autostrada eccetera eccetera la famosa fila e vediamo che ci sono tre file di mezzo chilometro come si suol dire e noi cominciamo a far mettere la freccetta sulla sinistra sorpassare e provare a capire se magari c'è un buco da qualche parte un pertugio dove dove passare e ridiamo perché perché ci accorgiamo arrivando lì a me è capitato eh più di una volta che appunto i bravi tedeschi sono tutti in fila nessuno si è chiesto niente ha visto che lì non si poteva passare e non è passato e poi scopriamo che non si sono accorti che si è acceso il verde di un altro casello e quindi potevamo passare tranquillamente senza fare la fila perché poi ovviamente l'altro aspetto della della medaglia che peraltro ci invidiano molto ma è solo quello che ci invidiano non tutto il resto di cui abbiamo parlato finora è quello che facciamo vincere la nostra fantasia no la capacità di rimuovere gli ostacoli opportunisticamente opportunamente per avere diciamo maggiore maggiore per per vincere il problema per risolvere il problema e questa è una grande 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 cosa che poi è la ragione per cui eh se tu vai in Germania a lavorare o o se vai in Olanda o in o in Spagna porte aperte agli italiani voglio dire perché invidiano la nostra capacità innovativa no quella di superare gli ostacoli di vincere la sorte ma siamo ma è anche il nostro limite perché appunto quando diventa furto ruberia eh prevalenza furbesca eh certo quando diventa questo come purtroppo è eh genericamente eh ai noi ci ritroviamo ultimi della classe con appesantimenti non da poco e quindi governiamo in realtà una realtà molto debole asfittica sempre in difficoltà sempre in emergenza che non riesce mai a trovare una strada normale vorrei fare un'ultima domanda eh siccome so che tu in qualche modo sei ecologista perché hai fatto anche delle battaglie per ottenere delle per vincere delle battaglie ecologiste allora tu pensi che noi riusciremo dopo questa emergenza ad essere un paese più ecologico e dove butteremo le mascherine che continueremo a usare e a usare e a buttare ci abbiamo mai pensato perché non si pensa mai in Italia vengono anche all'estero prima a come smaltire i rifiuti che poi vengono eh prodotti dalla nostra società eh dunque questa questa anche di queste cose che si sono usate nell'emergenza sì eh io ho ho ancora un un primato eh sono stata la sindaca di una città di 31.000 abitanti a oggi sì che è ancora un primato nazionale ed è la città con la raccolta differenziata più alta d'Italia 87 per cento eh oltre i 30.000 abitanti oltre i 25.000 abitanti quindi sostanzialmente credo eh di poter dire alcune cose in relazione alle questioni che tu mi poni la prima è questa eh il tema rifiuti è un tema assolutamente culturale assolutamente culturale perché io sono riuscita a fare una cosa che ci credevano forse in in tre in due quando l'abbiamo fatta e cioè a portare una raccolta differenziata porta a porta spinta nel 2002 quindi vent'anni fa mi sembra ieri ma sono passati vent'anni in una città eh come le altre no non era una città che avesse chissà quale sì certo industriosa capitale mondiale della calzatura sportiva eh molto innovativa dal punto però voglio dire una realtà territoriale come moltissime altre dell'Italia e del e del nord Italia e perché sono riuscita perché mi sono messa in testa per buoni un anno circa eh di costruire un pensiero cioè di far rilevare come quello che chiamavamo rifiuto e che buttavamo con disprezzo via in realtà era assolutamente un ehm un bene di qualità e di alto valore ed è così perché l'ottantasette per cento oggi ma probabilmente il 95 per cento di tutto quello che noi utilizziamo e poi scartiamo può e deve essere riciclato secondo quell'economia circolare che dopo qualche anno sempre per in quanto a innovazione eh ad essere diciamo precursori è diventata poi una delle grandi tematiche della stessa Europa quando si è resa conto che di materie prime adesso parliamo del Congo no? De tutto il problema relativa eh relativa a alle materie prime che lì eh sono particolarmente preziose per l'industria del ehm della comunicazione e quindi del del dell'informatica piuttosto che eh di altre di altra natura eh materie prime rare eccetera eccetera siccome appunto anche quelle che non erano rare lo stanno diventando perché stiamo depredando il pianeta quindi noi abbiamo un obbligo proprio un obbligo eh che è anche un fattore culturale come dicevo prima quindi deve diventarlo che è quello di salvaguardare le materie prime recuperando tutto quello che è possibile e io dicevo loro anche puntando molto sul fatto economico non soltanto sul fatto culturale perché fare cultura vuol dire informare non vuol dire teorizzare no veleggiare sul sull'azzurro del cielo no no vuol dire informare e dire loro guardate noi facciamo una scommessa primo non inquiniamo l'aria con un inceneritore due non inquiniamo la terra con una discarica ma questo piccolo sacrificio di andare a suddividere tutto il materiale secondo criteri che adesso vi spiego ci permetterà di andare a ridurre di molto anche i nostri costi delle famiglie perché invece che pagare molto lo smaltimento come dobbiamo pagare inevitabilmente per inquinare bene noi recupereremo la materia da quella materia ne recupereremo anche un'economia quindi lavoro perché un'economia che funziona la filiera quello che non ha ancora capito il sud per esempio no quanto quanto lavoro verrebbe fuori da una corretta filiera per esempio relativa alla gestione dei rifiuti tantissimo migliaia decine di migliaia di persone potrebbero lavorarci correttamente va bene e nel contempo con questi soldi andiamo a ridimensionare le vostre bollette e le abbiamo ridimensionate del 10 per cento l'anno del 15 per cento l'anno abbiamo portato ad una tariffa che era la minore d'italia va bene avendo il servizio più più di prossimità più perfetto no perché venivano a raccoglierli addirittura questi rifiuti davanti a casa cosa vuoi di più della vita non devi neanche fare 300 metri andare dai cassonetti quindi in realtà questa è stata una battaglia vinta perché ripeto riunioni continue addirittura lo cito sempre perché sai è importante quando tu vivi una realtà dove il 12 per cento sono immigrati devi anche considerare la mentalità di chi ti è arrivato e la loro storia culturale la loro difficoltà anche di linguaggio quindi abbiamo costruito una comunicazione partendo dalle scuole materne quindi con i fumetti per i bambini che andavano a casa e pressavano i genitori sul valore no della carta sul valore della plastica eccetera eccetera fino a fare i sacchetti della spazzatura e il libretto di istruzioni in tutte le lingue arabo cinese e slovacco per esempio quindi l'importanza di offrire cultura che su questo è fondamentale allora il tema dei rifiuti che è un grande tema che tu hai citato e che oggi è il tema dell'economia circolare che peraltro è un sistema industriale non da poco che dà valore al nostro paese nostro paese poi è privo di materie prime signori per cui se non lo facciamo noi siamo pura scemi perché dobbiamo importarle e vuol dire da una parte essere quasi autarchici no cioè quasi autosufficienti e dall'altra essere dipendenti totalmente anche per la nostra produzione generale da tutto il resto del pianeta e spesso da aree dove difficilmente come dire abbiamo garanzie di qualche natura e offriamo garanzie di qualche natura ai lavoratori quindi io penso che dobbiamo sempre lavorare così le mascherine sono un fatto con cui dovremo convivere io penso per molto tempo a prescindere dai vaccini perché abbiamo capito che sono una difesa non è un caso che il giappone anche in parte la cina la corea sicuramente che sono realtà che hanno sempre utilizzato la mascherina quante volte abbiamo preso in giro i giapponesi che li vedevamo no in massa con la mascherina diciamo guarda questi mascherati sono scemi no non sono scemi perché la mascherina non ci difende solo dal coronavirus sars 2 la mascherina ci difende da tutti i virus che ci sono intorno io il primo anno quest'anno facciamo gli scongiuri che non mi ammalo di nulla quando sono tendenzialmente purtroppo con difficoltà diciamo bronchiali importanti perché da sempre ogni anno soffro di sinusiti e bronchiti ripetute costanti sono quasi croniche primo anno della mia lunga vita in cui questo non mi è mai accaduto non neanche avuto il raffreddore perché perché certamente i minori contatti ma anche l'utilizzo proprio di questa mascherina importante allora una mascherina quando c'è l'emergenza non so se hai notato si parla poco di ecologia cioè l'ecologia è sempre il passaggio superiore io penso sempre quando uso qualcosa vedo qualcosa penso sempre come la smaltisco sempre come è una eccezione la tua sì diciamo non un'eccezione totale ma sicuramente una percentuale minoritaria ancora dei consumatori italiani ecco che poi che brutto termine consumatori però insomma dei cittadini e però ti dico quando c'è un'emergenza l'emergenza cosa dice ah mascherine qualsunque tipo mascherine purché siano adeguate purché qui purché lì che poi anche lì abbiamo visto che le truffe erano dietro l'angolo no perché anche recentemente hanno bloccato alcune partite provenienti mi pare dalla cina anche d'altrove che assolutamente non erano adeguate bene il tema è per esempio adesso le mascherine in tessuto sono tutte evidentemente riciclabili perché sono semplicemente lavabili e quindi eliminabili le ffp2 non lo so probabilmente hanno dei contenuti che non sono solo o facilmente suddivisibili però abbiamo fatto miracoli signori abbiamo fatto miracoli sul inventando il mater b per esempio per risolvere il problema della plastica abbiamo fatto miracoli riuscendo in parte almeno a rendere di ciclabili alcuni rifiuti che erano accoppiati quindi io penso che solo l'urgenza l'emergenza in qualche modo ci abbia spinto a guardare molto grossolanamente la necessità e non a tutto il tema della filiera dopo di che il corretto smaltimento lasciami dire è obbligatorio cioè se io ho una mascherina che non è classificabile in tessuto non è classificabile come accoppiata in carta piuttosto che in plastica è chiaro che va sul bidone del secco quindi quella andrà smaltita ai noi secondo i tradizionali criteri dell'incenerimento piuttosto che della biocombustione o di altri sistemi oppure anche delle discariche sempre meno si spera di cui questo paese è dotato ma nel modo più assoluto ma questa è una questione di civiltà non si dovrebbe neanche dire no ma infatti guarda su questo i bimbi devo dire anche qua lasciami dirti le nuove generazioni sono veramente più di una speranza perché io ho assistito per esempio l'atteggiamento dei miei nipoti rispetto alle carte per terra rispetto alle mascherine per terra eccetera eccetera non ridiscono sono imbestialiti cioè veramente questa cosa ed è un passo avanti gigantesco perché la ritengono un'offesa personale è una maleducazione che danneggia il loro il loro vivere il loro camminare il loro abitare e quindi magari la prendono in mano cosa che non dovrebbero fare perché gli dicono guarda che può essere contagiosa eccetera però magari dopo si lavano le mani però tendono a non lasciarla lì a vederla proprio come un affronto no ma come sono ma come è possibile mi dicono che ci sono questi maleducati cioè sono stupiti ed è bello che si è riuscita penso che credono le nuove generazioni che prestano le nuove generazioni perché noi per adesso in italia purtroppo però la scuola secondo me ha fatto un grossissimo ha avuto un grande investimento veramente dalle elementari alle medie poi non so superiore sono già più grandi però è importante cominciare dall'asilo a insegnare le cose la scuola ha fatto un grandissimo investimento purtroppo in italia la scuola è complessa è sempre poco poco considerata e perciò non so come andrà a finire poi in futuro per adesso aspettiamo che le nuove generazioni crescano e che tu torni sui nostri schermi perché le cose che hai detto sono bellissime hai detto delle cose molto interessanti e mi auguro che le persone vedano tutta la tua intervista perché sicuramente magari vogliono scriverti tu hai mi pare un sito si possono scrivermi sia su facebook che su twitter oppure sul mio stesso blog però se volete scrivermi molto più semplicemente direttamente attraverso mail lo potete fare Puppato Laura è molto facile cognome e nome di seguito senza punti chiocciola gmail.com ti ringrazio Laura è stata un'intervista molto bella grazie a te veramente ti senti presto sui nostri schermi ciao volentieri a presto